Lopez di testa sull'assist di Federico Ricci, il cross di Verre Ricci ha messo in mezzo come possiamo andare a rivedere fra poco il Lopez di testa battuto De Luca per il vantaggio giallorusso Roma scese in campo nella ripresa, giusto atteggiamento, spingere subito forte, sono arrivati due corner e poi qui Ricci bravo di testa a rimettere in mezzo, Lopez anticipa tutti, batte De Luca e siamo 1-0 il gol dell'Uruguayano, terzo gol in due partite, ancora una volta a segno, l'ultimo sale numero 2 c'è da Federico Ricci, meglio in posizione di esterno di destra, ancora Ricci, Ricci doppio dribbling, cross in mezzo ancora Lopez di testa, la doppietta di testa di Nico Lopez al settimo minuto il raddoppio giallorosso ancora con Lopez e ancora di testa, non è la sua specialità ma oggi due gol di testa per l'Uruguayano due partite, quattro gol, un impatto decisamente impressionante sul campionato primavera e qui non arriva Leonardo, arriva Lopez, doppietta di testa per l'Uruguayano e Roma avanti 2-0, quello che più conta, al settimo minuto Roma 2, Lucerina 0 al settimo della Saurino attaccato da Lopez, riesce a proteggere il pallone poi in qualche modo da Chiavazzo, arriva però Leonardo, poi Lopez sul pallone prova a partire Lopez, Lopez dentro ancora per Leonardo, rientra sul destro quindi Frediani, 3-0 Roma, 3-0 Roma con l'azione partita da Lopez Leonardo non ha voluto provare il tiro col sinistro, rivediamo Lopez, Leonardo che ha recuperato il pallone, prova a rientrare sul destro fermato però arriva Frediani che batte De Luca per la terza volta e allora siamo al venticinquesimo della ripresa e il risultato cambia nuovamente Lopez, Lopez, Frediani così come su Pagliarini adesso Pagliarini supera l'avversario, Pagliarini arriva sul fondo cross verso Frediani, non può controllare questo pallone, è troppo lungo riesce a girarsi però nuovo cross, Lopez, tripletta di Lopez, tripletta di testa non sappiamo se è mai successo al 37esimo della ripresa, ancora Nico Lopez due gare e cinque gol per l'Uruguayano, presentato sì benissimo anche qui al pubblico di Trigoria, tripletta per lui, tre gol di testa da rivedere l'azione di Pagliarini, cross in mezzo Frediani sembra troppo lungo il pallone, si gira invece molto bene sul sinistro trova Lopez ancora una volta qui solo davanti a De Luca lo infila